Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Si, avevo detto che non ci sarebbe stato più nessun video per quanto riguarda lo structure deck drago bianco A meno che non l'avessero annunciato e ovviamente come sempre tutti i video del caso Con gli aggiornamenti delle carte magari inserite in TCG, le differenze, poi lista 3p, raggiunte e tutto il resto Però dato che mi vengono fatte tante domande riguardanti l'uscita di questo deck Quando esce, se esce, perché esce, dove esce e tutto il resto Facciamo questo video per andare a rispondere a tutte le domande in modo che siamo chiari e abbiamo E tutti magari hanno la risposta Prima di iniziare come sempre ragazzi mi invito a iscrivervi al personale prima dei sempre aggiornati Ricordo che l'iscrizione ho già avuto tantissimo, io vi ringrazio, ho detto ciò Partiamo, allora deck che è uscito in Giappone il 7 settembre Il 7 settembre e in Cina uscirà il 21 settembre E ok Allora lo structure deck non è stato ancora confermato qui Quello che dico io è Dato che è l'unico structure deck che potenzialmente può uscire nell'arco di questo anno in TCG Secondo me arriverà anche perché lasciarci un anno senza structure deck nuovi credo sia impensabile Senza contare tante scelte pessime ok ma lasciarci anche senza mazzo mi pare una cosa veramente eccessiva Anche perché insomma voglio dire Nell'ultimo periodo di structure deck ne erano usciti Tanti, forti, senza troppe modifiche Ed erano i prodotti veramente soddisfacenti E tutti praticamente se li erano presi Quindi voglio dire perché rinunciare a portarci un mazzo del genere Che potenzialmente è molto molto forte E può attirare tante tante persone Quindi al momento la mia speranza è questa Certo ci hanno dato la ristampa di un mazzo del 2014 Ma io non credo sia abbastanza Neanche i deck drago leggendario sono abbastanza Perché serve qualcosa di nuovo, qualcosa di fresco Che possa aiutare i giocatori appunto a giocare Questo è un mazzo, è un mazzo che potenzialmente può farlo E spero figivamente che possa essere portato qui Senza dover metterlo nelle buste Perché se lo metti nelle buste fa la fine del magia master Ovvero va a magari accostare la meta in 30 a pezzo E spero vivamente di no Spero vivamente di no che non venga scisso Perché non avrebbe senso E sarebbe un altro video sfogo che non vorrei portare Quindi secondo me può uscire Potrebbe arrivare Qualora venisse confermato Dovrebbe uscire verso dicembre Perché di solito i mazzi dopo 3 mesi più o meno 3 mesi poi dipende Escono un po' come fu per Darkwood Che uscì in sostanza dopo 2 mesi mi pare Dall'uscita OCG E risicato risicato per dicembre Quindi qualora venisse confermato Uscirebbe a dicembre Allora c'è da dire che le premesse non sono buone in realtà Perché di solito quando viene annunciato un mazzo in OCG Tempo 2-3 mesi viene annunciato anche in TCG Vuoi Fire King che era stato annunciato dopo 2-3 mesi Vuoi anche magari Crimson King anche quello dopo 2-3 mesi Ecco Questo è stato annunciato a maggio Sono passati 4 mesi Sono passati 4 mesi E non c'è stato nessun annuncio Addirittura Fire King Lo annunciarono allo Structure Deck Ancora prima dei ruling Del deck Perché qui i ruling già sono stati ben che messi Quindi le premesse non sono buone in realtà Annuncio per ottobre magari Lo annuncio per ottobre Perché così poi di solito Ogni 2 mesi fanno robe Quindi se lo annunci a ottobre Dopo 2 mesi dovrebbe uscire per dicembre E potrebbe essere una possibilità Perché parlo dei 2 mesi Perché è molto speso Magari è stato annunciato il mazzo È stato in un mese Dopo 2 mesi Prima rivelazione delle carte Dopo 2 mesi Magari è stato annunciato Poi un TCG O comunque è stato Confermato O sarebbe uscito Insomma Quindi la regola dei 2 mesi È abbastanza interessante Poi ovviamente il mazzo In OCG C'ha il pacchetto Qui viene senza pacchetto Ma tutte le carte vengono ovviamente Messe all'interno del mazzo Tutte le carte nuove sono inserite Non c'è cambiamento Per quanto riguarda le nuove carte Qualora arrivasse Potrebbero cambiare Max C al limite Potrebbero magari cambiare qualche Entrap Ma pure se viene modificato Secondo me rimane comunque molto molto buono Non credo ci sarà una ristampa Di Maglia Master Qui dentro Assolutamente no E niente Questo Questo era per rispondere A tutti quanti Certo Ripeto Le premesse non sono buone Perché di solito Lo annunciano L'avrebbero già annunciato Quindi speriamo Non è detto Non è detto Certo Siamo a ridosso Della fine dell'anno Quasi Vabbè Siamo a settembre Ancora no Però il tempo è poco Ed è incredibile Che ancora non ci sia un mazzo Da noi Perché Asian Ang Ce l'ha Ce l'ha tanti O almeno comunque Ne sono usciti Quattro Due Cioè due e due In contemporanea L'Ocg C'ha avuto anche i tattico Oltre i deck Oltre a questo E ok E ovviamente Poi vabbè Ci sono anche matti Simplified Cinesi Che comunque Non mi ricordo quali sono Però mi pare che comunque Vengono Portati E rimaniamo solo E rimaniamo solo noi Eh Sempre così Sempre così Che noi poi Abbiamo un solo Perché deck Leggendarie Anche per cui Gli hanno tolti Abbiamo sempre Un solo deck E bisogna sempre Sperare 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 La cosa che Più mi infastidisce È lo Sperare 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 Come al solito Dobbiamo sperare Ebbene In questo caso Ripeto Le premesse Non sono Il massimo Però C'è anche quella parte Che dicevo Che è l'unico Mazzo Quindi Un po' di fiducia Un po' di fiducia Quindi Non è ancora confermato Qualora lo confermassero A dicembre Lo vedremo Molto probabilmente Detto questo Ragazzi Spero di essere stato chiaro Più novitati Così Non ci sono Non c'è altro Da aggiungere Credo Credo Basti Mi ho parlato anche De Le carte Potrebbero essere Messe e tolte E via Tanto max e c Ovviamente Non ci sarà Assolutamente Penso che Nibiru Sì Perché comunque È una carta Che in realtà Nello struttro Non è mai uscita A meno qua E ci sta Poi max e c Possono mettere Addirittura Uno dei Dei livello 1 Tuner Dei saggi No Dei occhi blu Che ci sta Tipo il vecchietto saggio Quello che non mi ricordo mai Il nome Che comunque si gioca E può essere una soluzione All'alternativa Che ci sta Perché così comunque C'è una carta Utile per il mazzo Non è una grande ristampa Però comunque Nel mazzo Nel deck Ovviamente È molto molto buona Per il resto Ash Vailer Vailer che fa parte Anche del mazzo Perché è un tunnel Livello 1 Luce Ci può stare Detto questo ragazzi Comunque Poi il mazzo Semi completo Vi devo dire Tanta roba Appunto Detto questo ragazzi Fatemi sapere voi Cosa pensate Ovviamente Noi Come sempre Ci vediamo Nel prossimo video E un saluto a tutti E un saluto a tutti